l'inter è campione di supercoppa l'inter vince la supercoppa italiana a riad la decida il 91esimo lautaro martinez e regala questo trofeo primo trofeo per i nerazzurri lautaro martinez che supera anche i gol di vieri ciao ragazzi e bentorni in questo video qui a giapiaz oggi siamo qui ragazzi in un nuovo video siamo appunto qui nel giapiaz commentare e commentare il post partita di napoli inter finale supercoppa a riad la portano a casa i nerazzurri al 91esimo la decide lautaro martinez con un gol da bomber d'era di rigore decisivo qui la difesa la squadra del napoli che era stanca è arrivato questo gol all'improvviso al 91esimo partita che sembrava che andasse i calci di rigore ma poi lautaro ci pensa esulta sotto la curva dove stavano i tifosi nerazzurri e se leva pure la maglia con tanto di risultanza l'inter si porta a casa questa supercoppa importante a riad prima di tutto ciò mi raccomando un mi piace per supportare questo video se sei nuovi iscrivetevi al canale attivate la campana road to 3000 manca veramente poco quindi iscrivetevi condividete il video mi raccomando fate conoscere il mio canale più persone possibile e vi ricordo di recuperare i discorsi che trovate qua sopra le schede a fine video rimanete sintonizzati perché usciranno altri video come tutti quasi tutti i giorni durante il weekend escono sempre video quindi rimanete sintonizzati per appunto con la campanella attiva prima di tutto vi dico già che ho beccato il risultato esatto con il marcatore e il minuto esatto cioè una roba assurda avevo detto perché inizialmente avevo detto segna lautaro vince l'inter 1 a 0 con il gol di lautaro martinez durante i tempi supplementari poi ho ricordato che non ci sono i tempi supplementari ho detto secondo me ai ricori non ci vanno però per me il napoli la tiene in galla fino alla fine e segna loro ho detto segna dai minuti di recupero al 91 segna lautaro martinez così è andata purtroppo giustamente la per mia sfortuna non l'ho giocata come al solito per tanto se l'avessi giocata non l'avrei azzeccata però io non l'ho giocata quindi l'ho azzeccata però ragazzi le mie sensazioni erano quelle proprio che comunque il napoli provasse a mantenere il risultato intatto sarebbe stata comunque una partita è comunque una finale si è giocata da finale anche se l'inter dal punto di vista dei tiri in porta non c'è stata storia cioè napoli poco pochi tiri ha fatto l'inter che come al solito tira tantissimo ha avuto tante occasioni e poi finalmente è arrivato il gol e appunto questa supercoppa se la porta a casa mister simone inzaghi la partita è stata come detto molto equilibrata la diciamo ci sono state tante occasioni nel primo tempo nel secondo soprattutto le occasioni ce l'hanno avuto i turam lautaro ce n'ha avuta altre occasioni ma pure turam che si è mangiato un gol il tiro di di marco che finisce poco fuori tante occasioni come al solito l'inter crea tantissime occasioni di gioco il mkhitaryan che giocatore immenso in mezzo al campo poi tra l'altro piccola perdita per i nerazzurri perché se fammonire barella quindi salterà la prossima partita di campionato insomma vabbè il napoli che comunque l'aveva mantenuta pure diciamo se era diciamo con le unghie o con i denti stava difendendo questo risultato la voleva portare i calci di rigore e lì sarebbe stata una lotteria quindi sarebbero avere il napoli che purtroppo le espulsioni di simone che arriva all'ottantesimo pesa tantissimo perché poi condanna in napoli a già praticamente non attaccare più da quando rimane in dieci rimane chiuso tutto il tempo per cercare di portare il risultato fino ai calci di rigore poi nel finale esce pure furioso mazzarri non ha visto neanche il finale dopo il gol di lautaro è andato direttamente nei spogliatoi comunque nel secondo tempo ci sono tante altre occasioni poi arriva il momento in cui c'è stata l'espulsione di le ammunizioni al 55esimo di simone e poi è arrivato il secondo giallo al sessantesimo dopo praticamente cinque minuti dopo aver preso il giallo prende il rosso e quindi sotto la doccia il napoli finisce in dieci uomini l'inter che attacca di più gli minuti finali con 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 arnautovic che c'è un'occasione nel finale dopo anche sanchez l'inter che attaccava praticamente con con tre attaccanti con tre con tre punte stava nel finale con sanchez arnautovic lautaro e poi la sblocca lautaro su cross di paward che si spinge tanto questo pallone e mezzo messo perfetto di paward l'inserimento di lautaro l'inter che il napoli appunto stanca non arriva su quel pallone e invece ci arriva lautaro e fa il gol e decide questa finale il toro lautaro martinez l'inter vince la supercoppa a riad fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento cosa ne pensate secondo voi migliore in campo a mani bassa oggi lautaro martinez decisivo ha fatto una partita incredibile di sacrificio ma anche ha avuto tante occasioni per portare l'inter in vantaggio è stato il migliore in campo secondo me a mani basse anche secondo me anche mkhitaryan a me piace sempre mkhitaryan è un altro un altro dei migliori secondo me insieme a lautaro di marco pure partitone incredibile e finisce così fatemi sapere la vostra qua sotto un mi piace se sei nuovi iscrivetevi al canale mi raccomando iscrivetevi 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 sempre comunque forza il calcio che attaccante la donna martinez troppo forte l'inter ha fatto una partita comunque pazzesca come al solito ciao ragazzi vamos